ciao ciao a tutti bentrovati o bentornati sul canale vi chiedo scusa se la mia voce è un po' ballerina ma ovviamente sono stata colpita dai mali di stagione è un mese che praticamente ogni settimana ho qualche cosa e quindi non penso che non mi sentiate perché comunque il mio tono di voce è abbastanza forte già di natura però cercherò di non sforzarla troppo perché poi alla fine non riuscirò più neanche a parlare allora oggi pomeriggio video in compagnia di stefania del canale paravana stefania per la nostra rubrica mensile sui il profumo del mese il profumo del mese di febbraio allora febbraio è un mese secondo me un po di transizione se gennaio era il mese un po di tranquillità che appunto lasciava il periodo di natale quindi stavamo un attimo aspettando per vedere cosa succedesse febbraio è sempre un po per me il mese che ci porta a che ci porta all'introduzione della primavera le giornate si sono allungate sono molto più luminose soprattutto se ci sono delle belle giornate di sole le temperature pomeridiane ovviamente sono più miti sono più tiepide e quindi ci sta dando un po quella così ci sta preparando ci sta introducendo alla primavera che tra poco arriverà anche se poi generalmente da noi comincia a piovere in questo periodo però visto come è cambiato il clima probabilmente non sarà così e quindi ho cercato di scegliere quattro profumi che fanno un po questo questo percorso da un profumo che è prettamente invernale sapete che io non ho una stagionalità che però sento prettamente invernale che mi dà quella sensazione di abbraccio di calore che sta ancora un po sulle scele dell'inverno arriviamo poi a un profumo molto molto primaverile anche se tutti e quattro questi profumi soprattutto uno io l'ho utilizzato praticamente tutto l'anno gli altri li sto utilizzando ora alcuni sono nuove scoperte altre un po meno mi piacciono tutti e così ve li voglio ve li voglio raccontare il primo profumo da cui voglio partire è oro di renato balestra renato balestra lo conosciamo tutti un bravissimo stilista ha fatto dei profumi veramente meravigliosi io ne ho altri due che poi vi presenterò che mi piacciono tantissimo e questo l'ho comprato non da tanto e l'ho anche abbastanza utilizzato in questo ultimo mese come vedete non è utilizzato tantissimo perché ne ho tanti ma anche perché è un profumo che pur non essendo opulento persiste molto sulla pelle e diciamo lascia quella piacevole scia che non è troppo che è giusto è un profumo bilanciato e mi piace davvero tantissimo allora è un profumo ovviamente vintage ed è adesso vi dico nasce nel 1997 viene lanciato nel 1997 è un profumo cipriato floreale aromatico e fruttato in testa abbiamo la pesca il mandarino il pepe rosa il fiore d'arancio africano ed è uno speziato leggero nel cuore abbiamo il coriandolo lo smanto la rosa e il mughetto e come base abbiamo il muschio di quercia il cedro della virginia il cipresso l'iris e il paciuli allora è uno dei migliori profumi vintage che io abbia provato in questo ultimo periodo mi piace davvero tantissimo e come tutti i profumi vintage mi ricorda delle persone che hanno fatto parte della mia vita non perché indossassero questo profumo o magari lo hanno anche indossato ma io sinceramente non lo so ma è un profumo meraviglioso un profumo di altri tempi allora diciamo che io lo trovo un profumo elegante bilanciato che non cambia molto dal momento in cui voi lo spruzzate fino a quando poi diciamo si scalda sulla pelle l'intensità è sempre la stessa e le note che io sento sono sempre quelle per me sulla mia pelle non ha un'evoluzione allora io sento come note subito la rosa e l'iris c'è questo bucchè floreale intenso ma non opulento e una nota speziata che penso sia data dal coriandolo queste sono le note principali che io sento ma è stato formulato secondo me in maniera veramente veramente meravigliosa ovviamente è un profumo vintage del 1997 la il suo flacone è davvero molto elegante molto slanciato anche il suo pack è elegante tutto dorato con il nome e le iniziali di renato balestra è un profumo che io ho scelto perché secondo me e fa ancora parte dell'inverno anche se questo profumo sarebbe perfetto tranquillamente in primavera e probabilmente anche in estate perché come vi dicevo è un vintage ha alcune caratteristiche del vintage per me ma non troppo è un profumo raffinato un profumo adatto sicuramente ad una donna matura non ad una ragazza sui 20 25 anni io lo trovo adatto ad una donna sopra i 35 anni una donna anche magari riservata elegante che curata ma che non gli piace strafare non gli piace apparire troppo ha questa eleganza molto raffinata molto lineare un profumo mamma mia è veramente stupendo lo trovo adatto a qualsiasi occasione io l'ho messo soprattutto per andare in ufficio anche perché io di occasioni particolari non ne ho non dà assolutamente fastidio anche se lascia una buona scia perché più di una collega mi ha chiesto che profumo indossassi si sente ma non troppo e come vi dicevo diciamo le notte che voi sentite all'inizio le sentite anche alla fine quindi dura sulla mia pelle un 5 ore ed è un profumo veramente meraviglioso l'immagine che abbino a questo profumo è di una donna che va ed è invitata ad una cena romantica ad una cena romantica dove indossa una collana di perle il tavolo è illuminato da una luce soffusa che potrebbe essere di una candela ma anche di una lampada una scena romantica e intima e questa donna diciamo trascorre una serata piacevole con una persona amata è un profumo veramente spettacolare lo trovo universale adatto a tutte le stagioni e se lo dovessi definire lo trovo un profumo rispettoso perché non è invadente non è opulento si sente il giusto per quello che l'ho pagato io l'ho pagato 7,85 euro su farmacosmo poi vi lascerò il link ovviamente nell'info box 100 ml questo è veramente un gioiello che secondo me bisogna avere e per chi anche soltanto fa una collezione di profumi io faccio la collezione di profumi ma li metto anche perché a rotazione li faccio girare e questo è un profumo davvero meraviglioso un profumo che ti fa star bene che ti regala delle sensazioni così di pace e di piacere molto 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 buono e questo l'ho scelto proprio come profumo per iniziare questo cammino che ci porta verso la primavera il secondo profumo per me è stata una vera scoperta perché io non amo i profumi gourmand e questo per me è un profumo gourmand all'olio di argan allora questo profumo l'ho scoperto innanzitutto dai vari canali delle varie amiche anche Stefania ne ha parlato molte volte è un profumo che a lei piace molto ma potrei elencarvi tantissimi altri amici che sono amanti dei profumi e che ne hanno parlato non li elenco perché sennò rischierei di dimenticarmi di qualcuno quando poi sono andata in negozio all'erbolario me lo sono spruzzato e ne sono rimasta piacevolmente colpita perché ne sono rimasta piacevolmente colpita perché innanzitutto non amo i profumi gourmand e non amo la nocciola la nocciola è un frutto che io il profumo della nocciola non mi piace non ho mai mangiato il gelato alla nocciola non ho mai mangiato dei dolci alla nocciola anche le torte alla nocciola non mi piacciono non mi piace la nocciola mi piace come frutta secca ma per tutto il resto il profumo della nocciola non mi piace quando io mi sono spruzzata questo profumo mi sono innamorata della nocciola e mi sono innamorata di questo profumo gourmand ma quanto è goloso è buonissimo è buonissimo allora gli accordi sono frutta secca vanigliato legnoso dolce talcato ambrato in testa abbiamo limone e bergamotto poi in cuore abbiamo gelsomino e mughetto e alla base abbiamo nocciola vaniglia ambra e muschio come vi dicevo non amo il gourmand ma questo è un gourmand spettacolare spettacolare è un profumo che ti avvolge ti coccola dolce tanto dolce per me allora al primo spruzzo sento proprio la freschezza degli agrumi danzano sulla pelle escono questi agrumi voi li sentite sentite veramente il limone e il bergamotto e si sentono subito al primo spruzzo io poi li sento scomparire piano piano e compare in maniera preponderante forte sulla mia pelle la nocciola e la vaniglia che come vi dicevo sono due note che io non gradisco particolarmente nei profumi o comunque non vado a ricercare è un profumo goloso avvolgente coccoloso che ti regala una sensazione di benessere golosa e alla fine proprio alla fine questo mi rimane è un profumo secondo me molto molto persistente io lo spruzzo la mattina e lo sento assolutamente fino alla sera io sento in questo profumo una nota di caffè che non è descritta da nessuna parte ma il profumo che sento sulla mia pelle dopo che l'ho spruzzato è di una nota di caffè macchiata al latte un profumo adatto alle giornate di febbraio che sono sì tiepide ma ancora freschine alla mattina abbiamo le temperature ancora abbastanza basse alla sera altrettanto ci capita ancora di accendere la stufa o almeno questo capita a noi nelle giornate un po' così brutte come oggi che sembra che piova ma forse non piove è piacevole accendere la stufa quindi questo è un profumo da coccola serale e da coccola mattutina perché appunto alla mattina comunque c'è ancora una temperatura fresca e quando io mi spruzzo questa fragranza sulla pelle e niente vado al lavoro più felice, più contenta sono più coccolosa, sono più dolce e lo sento, lo sento tanto in ufficio cioè sto scrivendo al computer sposto un raccoglitore archivio delle carte e questo profumo c'è, esce mi segue è un profumo che secondo me fa la scia è un profumo adatto a tutti io direi è un profumo unisex per chi ovviamente ama i profumi gourmand ma come vi ho detto io non amo i profumi gourmand e di questo mi sono innamorata assolutamente è un profumo adatto alle giornate fredde che ci regalano magari anche qualche fiocco di neve se non in città magari sulle nostre montagne ed è proprio l'immagine a cui io l'ho abbinato una giornata di quelle in cui voi siete in giro tutto il giorno arriva sera mentre state guidando sul parabrezza c'è qualche fiocchettino di neve siete felici perché state tornando a casa e quindi probabilmente la neve non vi recherà alcun disturbo entrate in casa una giornata fredda la stufa a legna però vi dà subito il benvenuto vi scalda, vi coccola, vi sedete vi fate una cioccolata calda con una spruzzatina di cannella o di cacao ed è il profumo di questo è il profumo di questo profumo un veramente un mix golosissimo goloso, goloso, goloso un caffè alla nocciola per tutti davvero, davvero meraviglioso l'ho pagato 22,56 euro su una farmacia che si chiama Mille Farmacie e poi vi lascio anche lì il link è un profumo del 2013 quindi quest'anno compie 10 anni ed è un profumo che secondo me è ancora di moda tantissimo, adatto anche alle ragazze giovani perché lo trovo davvero molto molto trasformista cioè sia per le persone adulte per i ragazzi giovani per gli uomini per le donne per chi ama questa tipologia di fragranze veramente veramente buonissimo un profumo delizioso che vi fa venire l'acqualina in bocca e questo è il secondo profumo il terzo profumo di cui vi voglio parlare è questo fiori d'arancia di Exige è un piccolo gioiello è stato regalato a mia mamma da un mio cugino che ogni volta che va a fare un viaggio gli porta un profumo a lui piace molto andare al sud e ogni volta che ci va gli porta un profumo abbrumato e io ne ho un po' mia mamma non usa i profumi e quindi quando li vengono regalati me li regala questo è davvero una piccola chicca un gioiello calabrese l'azienda nasce nel 1967 e produce e lavora profumi oli e saponi e anche profumatori per la casa profumatori per l'ambiente con ingredienti naturale e ingredienti di altissima qualità per me è stata una scoperta io questo lo metto tutto l'anno quest'estate l'ho usato veramente tantissimo è un profumo adatto anche all'iaring ho altri profumi agrumati che utilizzo con questo e veramente c'è un'esplosione di profumo c'è un'esplosione di fiori d'arancio di mandarino, di bergamotto, di limone quando li metto insieme che sono veramente uno spettacolo allora secondo me i profumi agrumati sono adatti veramente tutto l'anno e in ogni stagione diciamo si trasformano acquistano una sfaccettatura a volte più calda a volte più fresca a volte più intensa questo è veramente meraviglioso a parte che ha una vaporizzazione ma è veramente buonissimo vi leggo quello che mi ha regalato la sensazione di questo profumo un profumo che amo sia d'inverno che d'estate come vi dicevo in questa boccetta è racchiusa la bellezza della Calabria la Calabria è una regione che ho visitato tanti tanti anni fa ho fatto una delle vacanze più belle della mia vita ho fatto 15 giorni in Calabria con degli amici bellissimi con i quali siamo ancora legati anche se ci vediamo meno abbiamo scoperto posti meravigliosi la simpatia della gente l'ospitalità ho scoperto anche un modo di vivere completamente diverso dal nostro noi qui al nord siamo sempre imbronciati e andiamo sempre di fretta e non possiamo aspettare se entriamo in un negozio che c'è la fila insomma ci viene il nervoso quando sono andata in Calabria quell'estate mi ricordo che per comprare due panini aspettavo forse mezz'ora perché era bello così cioè io all'inizio mi innervosivo veramente da donna del nord mi innervosivo perché dicevo non è possibile che questi qui entrano e cominciano a raccontare della sorella, della zia ma come sta tuo fratello ma allora vieni ti offro il caffè ma signora ha fretta e dicevo no guardi non ho fretta devo andare in spiaggia eh signora c'è tempo c'è tempo ma alla fine io ho apprezzato tantissimo questa cosa perché hanno una capacità anche di relazione che noi ce la sogniamo ce la sogniamo io ho amato tutto di queste persone l'ospitalità l'allegria l'esuberanza che a volte magari può anche sembrare troppa per noi che siamo sempre ingrugniti che andiamo di fretta che non conosciamo neanche il nostro vicino bellissimo e in questo profumo c'è racchiusa la Calabria che io ho conosciuto è un profumo davvero che io ritengo un piccolo gioiello sento tutte 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 le note all'inizio sentite proprio i fiori il gelsomino il mughetto che mi piace tantissimo quindi regala anche un'intensità ma anche una freschezza a questo profumo il fiore d'arancio il mandarino e poi quello che vi rimane sulla pelle per tutta la giornata e per tutta la durata di questo profumo dalla mattina alla sera è la dolcezza del miele che mischiata al fiore d'arancio vi regala una fragranza meravigliosa meravigliosa che non darà mai fastidio che è intensa ma non è troppa una fragranza secondo me veramente veramente bellissima questo io lo ritengo un profumo perché alcune volte quando sentiamo parlare di profumi naturali fatti con oli essenziali ci dà sempre un po' l'impressione che questi profumi non durino più di tanto che hanno una formulazione molto semplice anche nelle note è vero le note di questo profumo non sono tantissime ma voi le percepite tutte ha una durata ragguardevole e soprattutto secondo me è formulato benissimo veramente quindi complimenti a questa azienda calabrese a questa azienda italiana che voglio assolutamente scoprire anche per altre fragranze e per altri prodotti perché ritengo che in Italia ci siano delle eccellenze e che a volte non si conoscano quindi io questo veramente l'ho provato è l'unico profumo che conosco al momento di questa azienda ma sento di consigliarvelo il prezzo di questo profumo è quasi irrisorio perché sono 14,90 euro per 50 ml e li vale tutti li vale veramente tutti è un profumo mamma mia non si vede neanche la vaporizzazione innanzitutto buonissimo veramente veramente buonissimo l'immagine che io ho abbinato a questo profumo è quella del primo raggio di sole che in queste giornate ancora magari nuvolose ancora freschine diciamo coraggioso e irriverente esce dalle nuvole fa scomparire poi queste nuvole che adombrano un po' il cielo e ci regala un piccolo sogno d'estate anche se l'estate è ancora lontana per me è un profumo da dieci lode con bacio in fronte forse il mio preferito tra tutti questi che vi ho raccontato ultimo profumo anche questo per me è buonissimo ma è ovvio che i profumi che vi presento li ritengo buoni altrimenti non ve li consiglierei e se io lo tolgo sempre dalla scatola non mi ricordo mai non sono molto professionale Eclat Femme Weekend di Oriflam o Oriflam non so come si dica che è un'azienda l'avevo segnato aspettate non mi ricordo più svedese forse mi pare che sia un'azienda svedese ma non ne sono sicura poi dopo ve lo lascerò sotto Eclat Femme è un profumo fruttato floreale agrumato verde dolce speziato fresco speziato leggero nasce nel 2015 dal famosissimo naso di Nathalila Lorson che è un famoso naso profumiere che ha lavorato per le più grandi case profumiere che ci sono al mondo questo profumo è il profumo che apre le porte alla primavera e all'estate è un profumo freschissimo le note di testa sono pesca bergamotto e ribes le note di cuore sono fresia note erbace e rosa le note di fondo o di base sono muschio e note boschive allora quando voi lo spruzzate aprite la finestra alla primavera qui diciamo le note dei frutti di questa macedonia così fresca scusatemi così fresca così dolce così frizzante la sentite è un profumo molto allegro molto sbarazzino un profumo che quasi quasi ritengo adatto ad una giovane ragazza ad un giovane ragazzo sotto i 20 anni perché mi viene proprio in mente una persona allegra frizzante un po' uno scavezzacollo una persona che non vada tanto magari a quello che sta facendo perché proprio diciamo l'età giovane non lo fa pensare o non la fa pensare più di tanto alle azioni che compie è una per un ragazzo una ragazza coraggiosa che si affaccia al mondo che accoglie tutto con gioia con allegria un profumo davvero fresco giovanile frizzante all'inizio appunto c'è questo mix di frutta che si sente e rimane quindi rimane anche per tutta la durata un profumo fresco e poi si trasforma un attimino perché la fresia e la rosa quando si scalda sulla pelle pian piano appaiono ma diciamo che questo mix fresco rimane fino alla fine è un profumo che mi ha fatto ricevere complimenti più di una volta come vi dicevo i posti che frequento io sono i negozi di alimentari le persone della parrocchia i luoghi della parrocchia ma quando ho messo questo profumo sempre tutti mi hanno chiesto ma che buono ma che profumo stai indossando è davvero un profumo che così un'esplosione di primavera questa è proprio l'esplosione della primavera io l'ho ritrovata in questo profumo e questo è quello che conclude la serie di questi profumi che io ho scelto per il mese di febbraio l'immagine sempre che abbino a questo profumo è di un'allegra compagnia di giovani ragazze e di giovani ragazze che fanno la gita fuori porta in una giornata primaverile con una temperatura mite una tovaglia a quadretti bianca e rossa su un bel prato qualche narciso o qualche crocus perché adesso comunque quando la primavera sboccia ci regala queste meraviglie hanno un bel cestino di vimini brindano con un prosecco con qualche fettina di pesca e questa è l'immagine che mi ha così suscitato questo profumo davvero davvero bello davvero esplosivo davvero fresco primaverile che ci porterà poi all'inizio di questa stagione primaverile che tra poco arriverà io questa volta ho finito con quattro profumi ne ho scelti soltanto quattro ringrazio e sono molto curiosa di vedere e di sentire i racconti della Stefi sui suoi profumi di febbraio la ringrazio anche perché appunto il nostro conoscerci a vicenda sui profumi ma non solo sui profumi ci fa scoprire che siamo davvero molto molto simili che abbiamo tantissime cose in comune e ogni volta ne scopriamo una diversa e questo mi fa davvero molto molto piacere e nulla io vi lascerò poi sotto nell'info box il link al suo video il link al suo canale vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio per essere arrivati fino a qui se vi fa piacere iscrivetevi al canale visitate il canale di Stefi e ci vediamo ad un prossimo video grazie a tutti e buon pomeriggio ciao